Buongiorno a tutti amiche e amici di VolumeWrite, siamo qui con Simone Fanti, giornalista RCS e blogger per Invisibile e io donna, uno degli ospiti del nostro convegno per il decennale di VolumeWrite. Volevamo fare alcune domande sui tuoi interventi di oggi, per esempio hai portato la presenza di professionisti con disabilità nel mondo del giornalismo e del mondo dello sport, hai riportato che le persone con disabilità hanno avuto un accesso un po' in ritardo rispetto alle altre persone, al mondo della formazione e dell'università, che i prossimi professionisti con disabilità semplicemente arriveranno. Speriamo, ovviamente. Accanto a questo però ci sono dei limiti che dobbiamo superare, dobbiamo abbattere per fare in modo che questi professionisti arrivino più facilmente? Sì, ci sono ovviamente dei limiti, delle barriere più che architettoniche e culturali. Prima cosa, parto dal mondo della disabilità, cioè di quello di pensare, di prepararsi, di essere dei professionisti a tutto tondo per prima cosa, invece di aspettarsi magari di essere assunti perché disabili. Sull'altro fronte bisogna anche essere disponibile a spiegarsi, a raccontare cos'è la propria disabilità, quali sono le difficoltà e quali sono i lati positivi. E quindi farsi accettare, non dare per scontato che tutti sappiano tutto, che sia dovuto. Per il giornalismo non vedo grosse difficoltà, alla fine bisogna avere una preparazione di capire qual è la notizia, di saperla scrivere, saperla esporle nel caso televisivo. Ovvio, una persona con disabilità motori difficilmente farà l'inviato di guerra o la persona che fa cronaca, farà più un lavoro di desk, quindi di scrittura. Poi da qui a vent'anni io mi aspetto, prima in America, poi nei paesi inglesiassoni, poi fin da noi, di avere delle persone con disabilità anche in tv, perché no? Un altro argomento che avevi portato è quello del linguaggio, della comunicazione. Cosa c'è da curare ancora nella comunicazione? Quali sono gli errori che hai trovato più comuni? Cosa secondo te bisogna fare per curare questa parte della nostra cultura? Gli errori più comuni si vedono facilmente, ma sono visibili a tutti. Un uso scorretto delle parole, un uso non scorretto ma quanto poco rispettoso. La Convenzione ONU dice persona con disabilità, per cui di apporre l'accento sempre sulle caratteristiche della persona. Lo sbagliamo con le persone con disabilità, lo sbagliamo anche nella vita normale, definendo il biondo piuttosto che, proprio per semplificare, ho visto titoli con ancora handicappato, ho visto titoli con diversamente abile, ho visto libri di testo con la parola mongoloide che, come dire, spiazza parecchio. Bisogna pian pianino introdurre il corretto modo di porsi, di spiegare il perché diversamente abile è meno corretto rispetto a disabile o addirittura meno di persona con disabilità. Diversamente abile perché? Da chi? Chi è veramente abile su tutto? Io ho dell'abilità, per esempio la scrittura, che molte altre persone non hanno. Quindi la diversità nell'abilità è soggettiva. Grazie mille per aver condiviso queste informazioni con noi e alla prossima.